Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior congelatore. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base, al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo. Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior congelatore. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base, al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Numero 4. Beko Questo congelatore verticale di Beko è perfetto per la casa. Ha una grande capacità e viene fornito con l'installazione gratuita, quindi è facile da installare in cucina. Il congelatore ha una classe energetica a più, per cui potete essere certi che vi farà risparmiare sulle bollette energetiche. Inoltre, è dotato di una funzione di congelamento rapido, che consente di congelare rapidamente i nuovi prodotti. D'essayet d'engroßer portal, oensì e das essen in freien coche mochten. Der cocher istauk mit ener automatisch e spufunksamenos gestartet, sodassie precedente cocher nicht mehr manuals pulen muussen. D'essayet in esse nuzlik eigenshaft denenzeit utmue spart, untau sardemat der congelatore e garantie Von 2 Yaren, DH. SIE CONN e SICKER SEIN, DASSER FURI IN E LANGLE BENSTAUER CON ZIPIERTE URDE. Terzo posto c'è Premier Tech. Mini freezer 32 litri verticale meno 24 gradi, gradi ottimo per piccoli spazi, uffici, farmacie, hotel prodotto a libera installazione. Lasciare almeno 12 cm di spazio su ogni lato per il raffreddamento, non incassare, non installare in barche, camper ecc. Necessita di corrente e tensione stabili a 220 V, senza sovratensioni. Non deve essere collegato a un inverter. Congelatore per piccoli spazi mini congelatore per casa, ufficio, farmacia, ecce ottimo per l'uso quotidiano classe energetica e capacità netta di 32 litri dimensioni. L39XP 45,5XA 52CM voltaggio. 220-240 V potenza assorbita 100 Watt. Attacco spine e cavo inclusi nel pacco spedizione gratuita con Corriere Espresso SDA o Bartolini per tutta. Italia 24-48 ore tracciabilità dello spedizionamento sul sito del Corriere e consegna in tutta. Italia in due terzi giorni lavoratività l'order spedizione gratis con Corriere Espresso SDA. Numero 2. Isense. Il congelatore orizzontale Isense è la scelta ideale per qualsiasi casa o azienda. Con una capacità totale di 384 litri, questo apparecchio ha spazio sufficiente per conservare tutti i vostri prodotti surgelati. La maniglia esterna facilita l'apertura e la chiusura della porta, mentre la serratura mantiene tutto al sicuro all'interno. Questo congelatore è dotato di una porta autobloccante che garantisce una maggiore sicurezza. Der Spiralverdamper ist aus unser Brecklichem Alluminium Gefertigt warrend der Compressorhaus Kunststoffer Gestalt East. Die Energieeffizienz classe A++++ ermolichte in Erebliche in Sparung Baderlichtausbaute. L'apparecchio dispone anche di quattro piedini regolabili, che lo mantengono saldamente al suo posto. Der ist mit einer Garantie von zwei Jahren ausgestattet. Infine, il numero 1 della nostra lista, John R. Fly, traduttore vocale. John R. Fly è un traduttore vocale con traduzione fotografica. È in grado di tradurre la lingua che parlate e riconosce anche il testo in qualsiasi lingua e lo traduce nella vostra lingua madre. È possibile fotografare qualsiasi parola o frase su cartelli, libri, riviste, eccetera. E John R. Fly la tradurrà per voi. Con la globalizzazione e la tecnologia, il mondo si restringe ogni giorno di più. Un numero sempre maggiore di persone si reca all'estero per lavorare o studiare. Per comunicare efficacemente all'estero, è necessario imparare almeno alcune frasi di base nella lingua locale. Tuttavia, questo può essere difficile, soprattutto quando ci si trova in un paese di cui non si parla la lingua. John R. Fly è un'ottima soluzione per queste situazioni. Si tratta di un'app di traduzione potenziata dall'intelligenza artificiale in grado di tradurre qualsiasi testo o discorso in tempo reale. Sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.